Buon pomeriggio cari amici di Globus Television, seconda puntata di Calcionata Flash, come vi ha un promesso, saremo in vostra compagnia ogni lunedì pomeriggio, si comincia alle 15, apposta una mezz'oretta buona di ultime notizie da elaborare insieme a voi, come sempre fondamentale il vostro supporto, ancora una volta e come lo sarà per ogni settimana, insieme a Salvo Russo. Buonasera Salvo. Buonasera, buonasera Vincenzo, buonasera naturalmente ai nostri amici che ci seguono da casa, poi ricorderemo tutte le modalità per seguire Globus Television, la pagina di Calcionata e i commenti in Casa Rossa Azzura. Settimana corposa, ricca di tanti argomenti nella nostra mezz'ora che abbiamo a disposizione, cercheremo di fare un po' il quadro della situazione, le ultime, i profili dei calciatori che potrebbero arrivare a Catania, parleremo naturalmente… Si spiffera, si spiffera, c'è caldo ma anche fresco a causa degli spiffer. Abbiamo appena chiuso la porta perché c'era lo spiffero, peraltro questa seconda puntata rispecchia come di consueto il cliché anche della prima, il flash, anche nell'abbigliamento, abbiamo cercato di dare due profili distinti, uno istituzionale che è quello del produttore, però stavolta senza giacca, stavolta ormai il passo è fatto, dai, con la cravatta però eccetera, l'altro meno informale, un po' da rumors di spiaggia, definiamole così. Allora partiamo subito dalla piattoforte, che dici? Oppure partiamo con le frequenze al solito perché abbiamo giustamente salutato ma poi sempre ci ripromettiamo di dire un po'. Con le buone frequenze in questo caso. Con le buone frequenze che siete soliti appunto frequentare, la ridondanza del termine. Allora canali 15 e 18 del Digitale Terrestre, il canale 268 per le frequenze nazionali, poi il sito istituzionale globusmagazine.it slash video, le piattaforme streaming Twitch e TV Dream, Facebook con calcionate e commenti Casa Rossa Azzurra dove vi invitiamo anche a scrivere, e poi le piattaforme ultime arrivate per quanto riguarda la TV, Local TV e Cyborg TV con cui tutti i nostri amici dell'estero sono soliti frequentarci e raggiungerci. Infine l'app per gli smartphone e quindi Globus Network Italia. Naturalmente il canale WhatsApp è a vostra disposizione, la chat quindi 341 051, scusate 340 051 12 86 per quanto riguarda il canale WhatsApp che ora la regia passerà in sottofondo perché ne possiate anche avere contezza visiva. E allora mi dicevi Piantoforte, Salvo, arriva o non arriva, ce li fumiamo o non ce li fumiamo questi toscanelli? E' già arrivato, è arrivato, sono foto che lo attestano. Sì 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 è arrivato, probabilmente una toccata e fuga nella giornata odierna per mettere magari appunto alcuni dettagli anche perché domani invece Toscana a quanto pare sarà atteso in quel di Cesena. Sì, Fonte Corriere di Romagna. Fonte Corriere di Romagna, ecco citiamo anche le fonti. Lo aspettano dal consulente del lavoro, o tranne che abbiano già firmato le carte e poi semplicemente il consulente del lavoro deve ammannire le pratiche perché si parla del famoso incentivo all'esodo, no? Noi avevamo capito tutt'altro, avevamo capito che era lui che doveva disinfegnarsi, invece era la società che doveva disinfegnarsi. Allora, secondo la fonti appena citata, ecco, spieghiamo bene a questo punto caro Vincenzo. Sì, infatti diciamo che la società perché lo staff, compresso Toscano, i suoi collaboratori possa finalmente rescindere questo contratto perché sappiamo che c'è D'Aversa pronto a firmare, anche se lui firmerà dal primo di luglio perché sino al 30 giugno è ingaggiato. Dovevano accordarsi su una sorta di buon'uscita, chiamiamolo così, tecnicamente lo chiamano l'incentivo all'esodo, in realtà è proprio una buona uscita. Si parla di cifre ovviamente interessanti, non andremo qui a discutere nel dettaglio, ma c'è scritto anche questo, Corriere di Romagna.it, per lui e per il suo staff. Il Corriere di Romagna parla di domani, appuntamento davanti al consulente del lavoro, in realtà oggi Toscano è già in città, quindi io non so poi se lui tornerà o se le carte per così dire sono già firmate, appunto si tratta solo di depositare e di provvedere poi ai pagamenti che mi sembra di aver capito verranno effettuati in quattro comode errate come quando si vende in quattro comode errate. Va bene, va bene. E questo è quello che abbiamo evinto dal Corriere di Romagna. E questo era quanto, ed era subito utile anche specificarlo e considerare che tutto quello che si era detto la settimana scorsa si sta di fatto attuando, cioè i tempi erano proprio questi, la società si era preso i tempi necessari per definire le situazioni burocratiche che abbiamo specificato, questo significa che quel tassello così importante che mancava di fatto, anche se era già stato del tutto quasi inserito, mancava l'ultima spinta, no? Consentirà adesso alla società, ai quadri dirigenti, all'amministratore delegato naturalmente ma anche al nuovo direttore sportivo finalmente di lavorare. Finora magari si è fatto qualcosa già sotto traccia perché è chiaro che Faggiano non è stato con le mani in mano, tant'è che cominciano a circolare i primi nomi, i primi rumors, i spifferi di calcio mercato, alcuni li abbiamo già anticipato, non solo noi. Qualche nome l'abbiamo fatto. Da tempo girano. Però prima di andare dentro, nello specifico, a vedere quali sono questi nomi, andiamo a vedere subito invece quello che abbiamo raccolto in termini di considerazioni. Però prima un attimino per motivi tecnici dobbiamo partire con l'intervista e poi andiamo. Andiamo con l'intervista. Andiamo con l'intervista che ci propone la regia, un amico che conosciamo. Siamo in collegamento da Napoli con il giornalista Stefano Sica, nostro collaboratore. Ciao Stefano. Buongiorno Caetano e naturalmente un saluto a tutti gli amici di Globus Television, a tutti gli amici rosso-azzurri. L'ultima volta che ci siamo visti, credo che ci siamo visti ad Avellino, dove finiva là il percorso dei play-off del Catania. Sì, sì. Insomma è finito magari nella maniera in maniera beffarda, in maniera per cui pochi magari si sarebbero aspettati che finisse. Un dato per il provvedimento della vigilia con l'Avellino, che chiaramente era dato favorito naturalmente. Va bene, comunque io ti chiamavo per sapere che notizie ci sono dalle tue parti per questa nuova avventura del Catania 2024-2025. Che notizie arrivano là da voi? Ma no, diciamo che molto semplicemente è chiaro che i progetti, le idee già si stanno cominciando a delineare, è evidente. Quindi lo ha fatto per dire l'Avellino recentemente con una conferenza sabato con il presidente D'Agostino, presumibilmente altre società rilanceranno, proveranno a vincere. È chiaro che il Catania è una di quelle società che l'anno prossimo proverà naturalmente. Poi, sai, Gaetano, io credo che partire con l'ambizione di dover vincere questo è complicato. È difficile poter promettere in un girone, soprattutto come il nostro, che riserva sempre insidie, sorprese. E quest'anno abbiamo visto, insomma, all'Opera una bella sorpresa come la Juve State. Ma è chiaro che il Catania, che sarà profondamente rinnovato, non solo nell'area tecnica, con l'arrivo di, insomma, un direttore di grandissima esperienza come fa Gianno, ma se ci sarà questo accordo che credo, proprio notizia nelle ultime ore, sia davvero imminente, insomma, si va sull'accordo verso un biennale, quindi verso poi altri tipi di clausole che dovrebbero poi in un certo senso perfezionare questo accordo, è chiaro che il Catania l'anno prossimo dovrà necessariamente non solo migliorare la stagione di quest'anno, e chiaramente è stata una stagione agrodolce perché ha portato la Coppa Italia, ma poi naturalmente ha portato un gammino in gambionato che non era quello spiegato. Ed è chiaro che l'anno prossimo il Catania, secondo me, partirà sicuramente per stare lì sopra. Quindi cambierà molto, cambia la guida tecnica, cambia l'area tecnica, cambierà anche una parte evidentemente della Rosa, di concerto tra il direttore Faggiano e il probabile neomistere Toscano, quindi è chiaro che la società, ovviamente, si aspetta e immagina un Catania protagonista, tante società vorranno essere protagoniste, ma credo che i progetti del Catania siano questi e che l'anno prossimo difficilmente il Catania potrà snaccare ancora un'altra stagione, pur, ripeto, nella difficoltà di un girone impegnativo come questo. Va bene, allora Stefano, ti ringrazio, alla prossima e sicuramente saremo assieme in qualche altra partita campana, tu ed io assieme, Salvorusso e gli altri collaboratori. Un saluto a Salvorusso, un saluto a tutti i vostri collaboratori, lo sai che è sempre un piacere, un saluto a tutti i tifosi del Catania. Ciao. Bene, Stefano Sica, che tu hai visto proprio Tavellino per salutarlo a fine stagione. Non solo Tavellino, ci siamo incontrati stessi. Sì, sì, no, dicevo come ultima partita, vi siete salutati lì in quell'occasione. Ma non la volevo ricordare quella... Ah, infatti. Non la volevo ricordare. Hai ragione, andiamo oltre. Andiamo oltre. Bene, sì, ringraziamo Stefano che ha detto anche delle cose importanti, condivisibili, nel senso che, ecco, la cosa importante, fondamentale, caro Vincenzo, ed è una cosa che vogliamo anche condividere poi con chi ci sta seguendo da casa, magari se mandate lì al numero Whatsapp e i vostri messaggi, cominciamo. Abbiamo qualche messaggio, poi lo leggiamo quando tu finisci. Sì, la considerazione d'apertura è questa. Dopo Faggiano, dopo Toscano, che ormai è fatta, nel senso che mancano solo gli ultimissimi dettagli, bisognerà capire poi da dove effettivamente partirà il nuovo corso del Catania, dove partirà la nuova stagione. Perché sì, abbiamo detto, il direttore sportivo è arrivato, arriva Toscano, l'allenatore, il suo staff, arriveranno tanti giocatori, tanti, pochi, quelli necessari, ma il punto di partenza è davvero importante. Da dove partiranno i dirigenti del Catania insieme a Toscano? Dalla valorizzazione di quella ossatura che si deve costruire basandosi su quei giocatori che daranno ampie garanzie, che sposeranno in pieno il progetto. O si punterà ad una ulteriore rivoluzione? Secondo me no, anche perché Faggiano stesso, insieme a Grella, sono stati precisi in questo. Hanno detto, nessuna rivoluzione, cercheremo, perché poi sai, non serve avere il budget da spendere, lo abbiamo visto, l'abbiamo sperimentato, l'hanno sperimentato altre società. bisogna spendere in maniera oculata e avere soprattutto l'idea di valorizzare quello che già si ha in casa, chiaramente scegliendo quegli elementi che faranno al caso del Catania. Degli schemi. Un attimino, visto che stiamo parlando e anche lo stesso Sica ne ha parlato, vediamo un po' l'organico, compreso il rientro dei tanti giocatori in prestito. Vediamo, azzardiamo qualche possibile conferma, no Salvo? Tu giustamente parlavi, l'acqua sporca non è da buttare, il bambino non si butta con tutta l'acqua sporca, c'è qualcosa da vedere. Potremmo partire, ad esempio, dal portiere Betters, per arrivare ai difensori Castellini, Bua, Quaini, certamente, dopo il bellissimo finale di stagione. Guarda, io direi… Dimmi come la pensi. Ecco, questo è tutto lo schema, compresi i rientri dei prestiti. Allora, io direi che su Betters, anche qui, non ci sono conferme ufficiali, ma si è capito, intuito, che Betters affronterà un'altra stagione in maglia rossa-azzura. Rientra in un progetto. Rientra nel progetto, ricordiamo che Betters è giovane, 2003, ha fatto bene due anni fa, l'anno scorso purtroppo si è fermato. Aveva iniziato benissimo. Per quanto riguarda, invece, Albertoni e Furlan, probabilmente Furlan si punterà ancora sul portiere, su Jacopo Furlan. Se parliamo di un portiere di esperienza, non c'è il miglior profilo, sicuramente. Sì, anche perché il finale di stagione è stato convincente. Assolutamente sì. Per quanto riguarda i difensori, credo che Boa sia una piedina indispensabile al progetto anche di Toscano e che Castellini sarà sicuramente parte integrante e non solo. È stato il capitano, praticamente, il capitano assolutamente di questa stagione. La società sta investendo. Assolutamente sì. E poi gli altri, vediamo. Quaini, Monaco. Quaini e Monaco probabilmente. Fatti questi nomi, no? Probabilmente sì. Quaini e Monaco probabilmente sì. Da valutare anche Contec, secondo me. Sì. Potrebbe rimanere anche lui, perché ha un doppio ruolo. Può coprire un doppio ruolo. Può in emergenza andare a centrocampo, assolutamente sì. E quindi potrebbe stare lì. O il Silvestri che ricordavamo, no? Dei tempi belli. Certo non quello che abbiamo visto all'inizio di stagione. Prima dell'infortunio. Il Silvestri che abbiamo visto all'inizio di stagione era condizionato, secondo me, una condizione fisica non ottimale. Che poi è sfociato nell'infortunio. Che poi si è sfociato nell'infortunio. Staremo a vedere, sai, perché un giocatore che poi rimane fermo in un ruolo così importante dipende poi dalle scelte che saranno indicate. Centrocampo già è strimenzito, ma penso che anche qui ci sarà un piccolo taglio, no? Allora, tra i probabili certi, tra virgolette, diciamo, tra quelli che potrebbero interessare e secondo noi, sono delle nostre valutazioni, assolutamente, potrebbero essere le figure di Welbeck e Zammarini, secondo me. Anche se poi il ritorno di Zanellato in qualche modo potrebbe dire qualcosa. E in attacco, lascio dire a te. In attacco assolutamente Chiarella in prestito, già detto da tempo, no? Perché Chiarella è un'ala pura e abbiamo visto come è adattato in altri ruoli, non rende quel che può fare quando ha tutto il campo libero sino alla linea di fondo. Su Chiarella però c'è una cosa da dire molto importante, che è di proprietà del capitolo. Sì, che è stato già prolungato il contratto, però già è quasi sicuro che vada in prestito. Ecco, poi, a meno che il mister si convinca e lo veda nel trasferirlo a fare uno dei quinti, a fare il quinto di destra, ad esempio, no? Assolutamente. Ecco, questo potrebbe essere uno sbocco per lui, però se resta ala pura non è nello schema di gioco. Staremo a vedere. Poi, là, i tanti, mi piacerebbe rivedere il Cicerelli di inizio stagione, ma anche per lui, dubito, ci sia poco posto, perché con l'immediana 5 lui è stato adattato a fare la mezzala, ma non era cosa sua. Idem per i vari Marsura, mentre potrebbero avere un'idea di conferma un per alta, se lo abbiamo disponibile. O anche un... ecco, il Cianci di fine stagione, per esempio, è molto piaciuto, poiché le due punte sono necessarie. Ecco, un Cianci potrebbe fare, a mio modesto parere, le fortune del Catania, se continuasse su quella riga della parte finale della stagione. Rientrano alla base Bocic, Popovic e De Luca, che però... Non abbiano fatto sfacelli da nessuna parte, che io sappia. Hanno giochicchiato, sì, hanno fatto qualcosa. Anche se su Bocic, non lo so... Ci si potrebbe lavorare. Ci si potrebbe lavorare, ecco, lavorare sì, perché giovane... Chiaro, Toscano li vedrà e saprà cosa fare, sicuramente. Andiamo ai messaggi? Andiamo ai messaggi, sì, sicuramente. Ecco, me l'ero già dimenticato, grazie Salvo che me l'hai ricordato. E allora, vediamo un po', tra l'altro è arrivato anche ora un messaggio Whatsapp. Allora, Luca Testa abbraccia tutta la redazione di Calcionate, me lo dico, arrivau, u visti, ma filmau. Diciamo una battuta sul fatto che è girata una foto che era in zona... in zona Piazza Spennini, sì, sì, sì. Poi Antonio Scuderi che ci saluta, Francesco Lippo, altri saluti e ti ringraziamo. Hashtag sarà con Faggiano e Toscano, il Catania andrà lontano. Vamos Catania, Giscio Lippo. Siamo già gli slogan, va bene, va benissimo. Antonino Cucinotta, salve, lo salutiamo anche noi. È vero che tutti i 2005 della vigente primavera sono stati fatti fuori, cioè non confermati. Ti posso dire, qui c'è Carlo Annino che dice dove l'ho letto hai sentito, io ti posso dire che con il presidente Mazzamuto il Catania firmerà un importante accordo, non solo tecnico, cioè che riguarda eventualmente anche i quadri tecnici delle squadre, una collaborazione, chiamiamola così, ma anche un posto dove far, diciamo, fra virgolette, svernare i giovani in esubero, i giovani non utilizzati in prima squadra, che abbiano limiti di età, nel senso che debbano ancora giocare col contratto, diciamo, di addestramento e non possono, diciamo, trovare spazio. Ecco, perché quest'anno i 2005 sono di precontratto e quindi evidentemente bisogna trovare loro una soluzione. E questo accordo del padrono potrebbe rivelarsi fondamentale da questo punto di vista. Andrebbero a giocare in una buona squadra di Serie D, vicini a Catania, e quindi potrebbero fare esperienza. C'è una strategia interessante che è stata annunciata da Faggiano, proprio in conferenza stampa, durante la presentazione, che è quella della territorialità, cioè dare la possibilità a squadre vicine e amiche, come chiaramente il caso del padrono. O comunque anche, non necessariamente nella provincia di Catania, ma nel bacino, di poter trovare una sorta di sinergia per valorizzare i giovani. E questo potrebbe essere un progetto davvero molto interessante. Gino di prima, mi auguro che facciano un mercato molto, ma molto culato. Il prossimo campionato sarà molto più difficile di quello lasciato. Diego Raciti, buongiorno. Forza Catania sempre. Antonino Cucinotta dice fonte reale, quindi risponde alla domanda di chi gliel'avesse detto. Quindi per fonte reale vuol dire che avrà qualche conoscenza all'interno della società. Paolo Di Giorgi, buon pomeriggio. Vabbè, ora c'è qui Carlo Annino e Antonino Cucinotta che cominciano a dialogare tra di loro. Sì, sorta di muro. Sì, questo discorso qua di questi giovani che non sono confermati. Gino di prima, guai a smantellamento della squadra, un po' riprendendo il nostro discorso di prima. Vabbè, Antonino Cucinotta e Carlo Annino, il tema l'avete introdotto. È inutile che andate ad approfondirlo. Ne parleremo più in là, vedremo cosa succede. Perfetto, c'era anche il messaggio su Whatsapp, vediamo chi ci scrive e così poi andiamo avanti. Ecco, si parla di un profilo di cui vogliamo parlare. Vincenzo Merola è un obiettivo attaccante del Pescara, Cicciolippo che ce lo domanda. E Merola è proprio tra i nostri profili. Anzi, prego la regia di mandare la scheda di Merola, che non canta ma gioca a calcio. Non lo sappiamo se canta pure. Visto che anche lui è napoletano. Eccolo qua, eccolo qua. Intanto ringraziamo sempre Salvo Ferigno, Turi Compagnia. Benissimo, il nostro grande amico. Che quest'anno ci sta davvero fornendo materiale molto importante e tra l'altro anche graficamente. Gradevole da guardare in tutti i suoi aspetti. Ho sempre guardato quello sfondo rossaggiore. Sì, sì. È bellissimo. Allora, vediamo un po'. Davide Merola è sicuramente uno dei profili che i Rumors Radiomercato mettono in evidenza. In classe 2000, quindi 24 anni. 24enne. È un esterno d'attacco, predilige giocare a destra, però si può adattare anche come punta centrale e come esterno sinistro. Provenza Empoli, quella che vedete a destra ai vostri teleschermi, è un po' la sua carriera molto... Anche fatta di serie B, a quanto si vede. Sì, sì. Io ti do una percentuale subito al volo, se la trovo, per dirti... Sì, perché anche tu lo avevi attenzionato, no? Seguendo il Rumor. Sì, sì. Diciamo che nella scorsa stagione, anche se lì è proprietà dell'Empoli, ma ha giocato nel Pescara, ha realizzato 18 gol nelle 37 presenze e anche uomo assist. Sì, è in prestito. Le ultime stagioni tutto è in prestito. Sì, tutto è in prestito. Con 5 assist, insomma, ha fatto un po' la differenza nel Pescara. Insomma, sa crossare dal fondo, sa crossare. È uno di quei giocatori che hanno gamba e quindi... Però questo ruolo sarebbe sempre in quel discorso di cosa vuole fare Toscano, perché caderemmo nello stesso discorso di cui parlavamo prima, dei Marsura, dei Chiarella, no? che sono esterni d'attacco e che... Lo abbiamo detto, no? E tutto, sono Rumor. Sono Rumor, quindi non è detto che... Sono gli spifferi di radiomercato. Non è detto che poi si vada a centrare quel... Tra gli spifferi andiamo avanti. Vediamo qualche altro spiffero. Vediamo di andare avanti con un altro attaccante, per esempio Spagnoli, no? Parlando di attacco. Oh, Spagnoli. Andiamo a vedere Spagnoli, che è una classe 94. Adesso dovrebbe arrivare pure la grafica. Se ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo. No, no, c'è, ora arriva. Ha 29 anni, quindi non è giovanissimo, però ha grande esperienza. Importante è la provenienza, arriva dall'Ancona, la squadra che non è stata ammessa al prossimo campionato, per tutta una questione di cavilli... Quindi torna tra i dilettanti, ammesso che vogliono iscriverla. Torna tra i dilettanti, la squadra marchigiana. Di fatto, Spagnoli è tra gli svincolati, quindi potrebbe venire buona, alla sua collocazione nella squadra del Catania. Non dico ancora di Toscano, perché non c'è nulla di uscita. No, certo, c'è. Lo scorso anno ha collezionato 36 presenze e ha realizzato 15 gol. Non male, assolutamente. Scuola Milan. Certo, certo. Tra le giovanili del Milan, la sua carriera. E abbiamo detto che ha quanti anni, Spagnoli? 29, 29. 29. Invece c'è qualche altro dato che volevi leggere su Spagnoli? No, va bene, è così. Chi invece ha molti anni in meno ed è molto prolifico anche esso, sicuramente è artistico, no? Ne abbiamo accennato anche lunedì scorso. Artistico, per così dire, vecchia conoscenza del Catania. È come? Dolorosa. È anche dolorosa, nel senso che l'abbiamo visto nella stagione scorsa alla Virtus Francavilla, società che poi ha di fatto perso anche i play-out e quindi retrocessa. Però artistico è stato uno di quelle pedine importanti per l'intero campionato. Nell'arco della stagione si è messo in evidenza, era già stato attenzionato nella sezione di mercato di gennaio della Catania, non se ne fece niente, ma è chiaro che è rimasto uno degli obiettivi artistico. Nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze, 12 gol e 2 assist. E insomma, è un bel profilo, sicuramente. Considerato che ha appena 22 anni. Anzi, di due anni deve fare. 21, 21. Mi fa, mi pare a luglio. Sì, dovrebbe essere luglio, 14 luglio. Perfetto, sì, ricordavo bene. S'eccisione, no? Eh, sicuramente. Svingolato, giustamente perché la Virtus Francavilla è di nuovo tra i dilettanti e quindi d'ufficio un professionista è svingolato. Diciamo che il Catania non ha mai perso il contatto e è rimasto sulle sue tracce. Ricordiamoci, aveva offerto addirittura 500 mila euro a gennaio perché potesse diventare subito il suo, Anche se poi... O bloccarlo, quantomeno. Apriamo e chiudiamo parentesi immediatamente. Su Artistico, naturalmente, c'è l'attenzione di tantissimi altri. Tanti, chiaro, chiaro, chiaro. Quindi, no, non sarà facile. Saluti da Mimmo Ferramenta Spina, buon pomeriggio a noi e benvenuto a Toscano e poi Gino Di Prima ci raccomanda un certo Alma, giocatore del Siracusa. Sì, certo, un ottimo attaccante, prospettive molto alte, lo ricordiamo bene. Quest'anno il Siracusa ha fatto benissimo, ma hanno fatto benissimo nell'anno del centenario, hanno fatto benissimo le donne, ha fatto benissimo la squadra Under 15 che è tuttora in lizza per la cosa, per la finale Under 15. Diciamo che dopo un lungo periodo... E si lamentano molto del fatto del subentro di diritto dell'Under 23 del Milan. Assolutamente, assolutamente. Ormai prima nei criteri di riempimento del... Diciamo che a Siracusa c'è stato un momento di... Di euforia. No, prima di torpore. Di euforia assoluto. Adesso... Quest'anno è stato euforio. Stanno riprendendo su tanti settori, diciamo. Questo fa bene allo sport siciliano in genere. Continuiamo a parlare di attaccanti o se vuoi cambiamo? Cambiamo, andiamo a qualcos'altro, andiamo per esempio a questi famosi quinti di cui si parla bene e che sono come dire, ben noti a Toscano, no? Dobbiamo correre, abbiamo 10 minuti. Quindi nel Cesena Adamo e Donnarumma. Adamo e Donnarumma mi pare che dovrebbero avere le grafiche, le vediamo anche velocemente, quindi quinto di destra ma può farlo anche a sinistra. Ovviamente Cesena perché... Ha evidenziato questo dato perché sono giocatori che Toscano conosce bene. Conosce e interpretano bene il ruolo. E potrebbe... Non sono adattati ma sono proprio nel loro ruolo specifico. Dalla parte opposta abbiamo Donnarumma che vediamo adesso anche qui in grafico così magari... Donnarumma classe 92 Adamo è classe 98 a 25 anni quindi hanno una differenza di età assolutamente. È ancora giovane naturalmente. E poi potremmo parlare ancora di De Rosa ad esempio, no? Se vogliamo parlare di un altro fedelissimo un altro fedelissimo di Toscano. Cesena, sì, assolutamente 1997 36 anni e diciamo che l'età conta anche per il ruolo di centrocampista conta nel senso di esperienza quantomeno. È un giocatore che naturalmente può dare peso specifico in quel settore del campo dove il Catania no? L'abbiamo detto prima Vincenzo ha bisogno davvero di... Abbiamo sperato ogni partita che qualcosa cambiasse ma poi in realtà abbiamo sempre tirato la carretta qualche volta bene qualche volta spesso male. De Rosa è sicuramente un giocatore... E come De Rosa ne abbiamo parlato la settimana scorsa ci sarebbe anche l'opzione Galo Capomaggio no? Ne abbiamo parlato lunedì scopo. Galo Capomaggio è uno di quei giocatori che da qualche tempo no? Sono accostati è al Catania è un mediano difensore centrale argentino di La Plata classe 97 lui ha 27 anni ha giocato nell'audace Cerignola quindi lo conosciamo bene perché lo scorso anno anche lui è stato protagonista nella squadra pugliese 28 presenze e 2 gol Sì 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 assolutamente Oriundo Italiano un bel giolli perché può fare diversi ruoli sia nel centrocampo che anche tra i difensori centrali quindi un bel profilo e poi c'è Di Cabianca che già da qualche tempo è stato accostato alla Catania difensore centrale 2003 attualmente alla Virtus Verona in precedenza ha giocato con il Pado e il Mestre ha segnato 4 gol nella stagione scorsa in 30 presenze ecco abbiamo dato un po' così un giro abbiamo dato degli ultimissimi e Prestia di cui abbiamo sentito parlare oggi siamo diciamo un po' ci stiamo appropriuando alla fine perché ovviamente questa mezz'ora passa rapidamente vogliamo vedere un po' vogliamo ricordare un po' un attimino la composizione dei gironi vediamo un attimino se abbiamo la grafica perché ne abbiamo introdotto prima il discorso ecco un under 23 per ciascuno dei gironi poi sarà la Lega a stabilire chi tra Atalanta Juventus e Milan andrà in quale girone probabilmente andrà a sorteggio mentre nel girone C c'è un ovviamente c'è un Latina se non ricordo male e qui tra Latina e Campobasso poi bisogna capire tra B e C bisogna capire un po' quale saranno gli orientamenti della Lega in base alle distanze territorialità e quant'altro quindi ecco ancora un po' tutto da determinare ancora è tutto da determinare assolutamente l'altra grafica era quella della Coppa Italia Frecciamossa e questa qui Turi compagnia Salvo Ferrigno si è veramente come dire esaltato nel rendere una cosa per tutti complicata nella maniera più semplice possibile perché oggi veramente si capisce qual è il percorso del Catania al volo subito con la Carrarese e questo lo abbiamo detto anche nell'articolo qui su Globus Magazine poi aspetta il Cagliari la vincente tra Catania e Carrarese sarà aspettata dal Cagliari poi ci sarà l'incontro con la vincente di questo piccolo diciamo di questo turno preliminare con la vincente tra Cremone e Sembeari poi si andranno nelle partite cosiddette difficilissime c'è la Juventus in quel settore quindi naturalmente diventa tutto complicato tra l'altro il Catania affronterà queste gare sempre in trasferta quindi al contrario della Coppa Italia di Serie C dello scorso anno come vincitrice della Coppa Italia mentre la Carrarese entra da 40esima credo 40esima nel ranking la Carrarese perché è la vincente dei playoff le altre di Serie B sono 41 42 43 assolutamente abbiamo parlato di Coppa Italia Serie C che si innesterà subito dopo un'ultima chicca vediamoci la coccardina della Serie C già elaborata con il nuovo logo che tu sai è uscito il nuovo logo della Serie C che a me francamente non piace molto mi piaceva di più quello dello scorso fino allo scorso anno con lo stile del pallone questa è la coccardina della Coppa Italia la coccardina che ha il suo perché sulla maglia del Catania che sicuramente non sarà questa perché poi sarà rinnovata come sempre però è tanto per farci un po' la bocca l'anno scorso non abbiamo avuto il piacere di avere lo scudetto di Serie D quest'anno avremo certamente la coccardina della Coppa Italia e neanche il Trapani e neanche il Trapani purtroppo ha sfiorato il triplete 5-1 è una grossa batosta assolutamente sì l'anno scorso non era andata bene al Catania però questa del Trapani è in attesa una debacle nella dimensione in tutto quello che abbiamo visto e in effetti non lo aspettava nessuno lo stesso Antonini è rimasto molto dispiaciuto occhio io lo dico occhio a questa squadra occhio a Campobasso il prossimo anno allora è meglio che vada nel Girone V assolutamente anche perché che resti nel Girone V come abbiamo immaginato poco fa lo diceva Stefano Sica no le solite saranno Avellino e Benevento che hanno budget possono spendere e hanno voglia di rivalsa occhio al Taranto perché anche lì quello che ha fatto questa stagione è stato qualcosa di miracoloso sempre che rimangano questi gli equilibri e poi la solita sorpresa la sorpresa c'è sempre no dicevo occhio al Trapani perché anche lì hanno un'ambizione poi bisogna capire cosa ne verrà fuori e sempre occhio poi all'outsider immancato c'è sempre tra le outsider però di categoria di spessore io metterei la casertana perfetto siamo proprio in chiusura vi ricordiamo che domani calcionate flash va in onda in replica su Telerent il nostro canale che conosciamo tutti come la 7 Gold Telerent canale 15 in chiaro dalle ore 15 questi 35 minuti andranno in onda in replica nel palinsesto televisivo che è quello caratterizzato dalla denominazione Top Calcio 24 quindi domani a partire dalle 15 replica di questa puntata di calcionato flash e tutto per oggi ci diamo appuntamento per lunedì ringraziamo chiaramente tutta l'equipe di Globus a partire dal direttore Enzo Stroscio la regia di Ghevano Ligreggi la segreteria la cura dell'amministrazione da parte di Filia Stroscio ringrazio Salvorrusso grazie a te Vincenzo a lunedì possiamo andare con la sigla buon pomeriggio a tutti sì grazie a te Vincenzo a te Vincenzo Grazie a tutti